Più che di Uscoli io parlerei di Uscitalie, perché noi abbiamo presentato una proposta di legge complessiva che riguarda la cittadinanza, che riguarda sia i giovani non di origine italiana, che sono figli di emigrati regolari nel nostro paese, che possono anche essere arrivati fino all'età scolare, che però una volta integrati, una volta concluso lo studio obbligatorio, con profitto, possono anche diventare cittadini italiani, perché l'italiano, la storia, la geografia, hanno imparato la lingua, hanno imparato la nostra Costituzione, io credo che sia giusto, dobbiamo guardare una realtà che oggi è composta da quasi un milione di ragazzi che fregheranno le nostre scuole, che parlano i dialetti, parlano le lingue locali come i loro amici che li hanno antenati, nati qua.